De Cesare, questa mattina in conferenza stampa la presentazione degli eventi del Natale, un cartellone quanto mai ricco di eventi e di manifestazioni. Sì, siamo veramente orgogliosi questa mattina di presentare questo ampio e gremito cartellone di eventi promosso dal mio assessorato, l'assessorato alla cultura e agli eventi, in collaborazione con l'assessorato al commercio che fa capo al dottor Pantalone e all'assessorato alle politiche sociali e della famiglia e quindi alla collega Maretti che mi hanno dato un grosso contributo per la realizzazione dello stesso. Devo dire tante iniziative a vantaggio dei più piccoli, iniziative per quanto riguarda la beneficenza, ci sarà un concerto di Natale con artisti importanti, tutti abruzzesi, presso il Teatro Marruccino il 22 dicembre. Ancora abbiamo pensato ad addobbare nel migliore dei modi il centro storico, ma non solo, anche la parte bassa che per la prima volta vedrà allestite delle luminari, degli addobbi luminosi anche nella zona di San Martino e di Brecciarola. Ci sarà una mega pista di pattinaggio a Piazzale Marconi che forse mai aveva visto la realizzazione e l'installazione di una pista di pattinaggio di ghiaccio per i bambini, ma ancora un albero di Natale che probabilmente sarà il più grande di tutto Abruzzo, nel quale è possibile anche entrare, molto caratteristico perché proietta delle immagini e dei colori molto particolari attraverso dei ledwall, un albero di circa 30 metri, sempre a Piazzale Marconi. Ma nella parte alta tanti saranno gli addobbi con delle luci d'artista, vedremo addobbato per la prima volta anche nel Natale il nostro Teatro Marruccino, tantissime iniziative, voglio citarne una su tutti che sarà secondo me tra le più belle, Piano Sky con una pianista molto molto importante a livello internazionale che mentre suonerà e ci allieterà con la sua musica si alzerà 5 metri fino a 5 metri da terra. Quindi veramente tante tante iniziative caratteristiche e importanti a favore della città per creare quel calore del Natale ma soprattutto per incettivare lo shopping presso le nostre attività commerciali cittadine. Devo dire che un'altra bellissima cosa concertata nel tavolo con le associazioni di categoria è stata l'istituzione di alcuni bus navetta che serviranno a far parcheggiare in maniera agevole gli utenti e colori uguali, i turisti e colori uguali si irrigheranno in città dal megaparcheggio di via Papagiovanni al centro storico.